buongiorno ragazzi buongiorno e benvenuti ai pronostici della 36esima giornata di serie a ragazzi mancano esattamente tre tre e dico tre giornate e finisce questo campionato 2023 2024 allora partiamo subito con i pronostici venerdì alle ore 20.45 giocheranno Frosinone e Inter Frosinone che si gioca importanti punti per la salvezza a Frosinone e l'Inter che a seconda di molti interisti ha staccato la spina e quindi concede anche dei punti ragazzi io ci tengo a dire che non tanto su youtube ma più su tiktok sono stato attaccato da vari interisti perché su molti commenti mi venivano a scrivere che era una partita quella tra Sassuolo e Inter rubata, comprata, messa lì a tavolino per far vincere il Sassuolo e io in alcuni commenti li rendo scherzando ho scritto che probabilmente sarà proprio uno sconticino su Frattesi ma proprio così rendere scherzando non ve la prendete a male perché veramente io penso di essere uno dei pochi ad aver veramente fatto i complimenti all'Inter senza aver visto il marcio in questo campionato secondo tanti altri e aver riconosciuto sempre la forza dell'Inter quando si fa una battuta, quando si fa uno sfottò sano e non dove si va sul pesante non prendetela sempre a male perché io vi riempio sempre di complimenti però ragazzi se poi vado a fare uno scherzetto e siete così permalosi non va bene, ci vuole comunque rispetto di entrambe le parti io l'ho messa lì a sorridere e quindi poi l'Inter ha perso c'ho burrato quella battuta lì però ragazzi veramente fly down, volate basso perché Frosione e Inter ad esempio l'Inter secondo me vincerà due fisso perché non credo che possa far due sconfitti di fila una squadra che ne aveva persa solamente uno prima del Sassuolo che poi è stata la seconda sconfitta di stagione quindi ecco ci tenevo a dire questa cosa qua perché ho perso anche qualche iscritto ma a me non mi frega niente però ripeto vi faccio sempre i complimenti però quando mi inchia si scherza un attimino non ve la prendete poi alle ore 18 invece di sabato quindi alle 15 non giocano c'è Napoli-Bologna Napoli ragazzi prende gol da tutti cioè ripeto per me il Bologna paradossalmente può anche vincere al Maradona per quanto mi riguarda Napoli in questo momento è incommentabile perché non può dare un pronostico vero e certo fai fatica veramente a pronosticarlo metto x2 per il Bologna onestamente parlando Sabato sempre alle 20.45 abbiamo Milan-Cagliari anche qui il Milan ragazzi ormai ha finito il suo campionato l'abbè visto anche col Genoa una partita pirotecnica 3-3 due squadre che non aveva nulla da giocarsi e si sono divertite in questo caso il Cagliari comunque qualche punticino ancora per la salvezza se lo deve giocare perché non è così sicuro di essere salvo il Cagliari quindi andrà a San Siro con le unghie e con i denti contro un Milan che non ha più nulla da chiedere vi stupirò x2 Cagliari proprio così perché Cagliari ha bisogno di punti e si impegnerà molto di più per questa partita passiamo la domenica alle 12.30 invece orario di pranzo Lazio-Empoli una Lazio che secondo me il treno Champions l'ha perso dopo il pareggio col Monza perché doveva vincere anche quella per rimanere ingrappata alla Champions per quanto mi riguarda però ha sempre bisogno di punti perché dietro magari sai poi c'è il rischio di perderti dell'Europa League e non ce lo può permettere una squadra come la Lazio quindi secondo me qua andrà a vincere con l'Empoli per quanto poi l'Empoli ha bisogno di punti salvezza all'Olimpico l'uno fisso della Lazio ci può assolutamente stare passiamo a questa domenica alle ore 15 abbiamo due partite la prima è Genoa-Sassuolo e in questo caso il Genoa-Amarassi anche qui è tranquillamente salvo non ha più nulla da chiedere al campionato il Sassuolo invece dopo i tre punti pesanti con l'Inter vorrà continuare a fare punti per poter sperare in questa salvezza è vero che a Marassi comunque secondo me non sarà facile per il Sassuolo il Genoa per quanto ha già cilentrato l'obiettivo in casa davanti al proprio pubblico non vorrà sfigurare però ecco non lo so io metterei 1x Genoa per il fattore casa per me il Genoa vince al massimo il Sassuolo a Marassi strappa un pareggio non credo che il Sassuolo faccia la sua seconda vittoria consecutiva devo essere sincero invece l'altra delle ore 15 è Verona-Torino l'Elas-Verona che ragazzi l'ultima l'ha vinta un Verona che ancora per sicurezza ha bisogno di punti salvezza perché non è comunque salvo del tutto un Torino che anche lì ormai non ha più nulla da chiedere al campionato il Torino è quella squadra che è da nonno decimo posto in Conference che è l'ultimo posto europeo comunque il Torino ormai non ci può andare perché ha perso troppi punti per strada e quindi non ha più nulla da chiedere a questo campionato a Verona secondo me vincerà il Verona e quindi ragazzi o 1 fisso o perché non se la senta che qua si può giocare l'1x però ecco l'1 fisso secondo me ci può stare alle ore 18 di domenica abbiamo Juventus-Salernitana e ragazzi la Juventus non vince da mesi e mesi allo stadium contro l'ultima in classifica già reprocessa io mi aspetto un ritorno di vittoria della Juventus cioè veramente se non si vince con la Salernitana nascondiamoci nascondiamoci proprio perché ripeto sarebbero tre punti fondamentali che ti garantiscono automaticamente questa questa Champions League e prendiamocela in casa nostra contro l'ultima in classifica cioè veramente se non si vince contro l'ultima in classifica è grave la situazione è veramente molto molto grave quindi per favore Juventus contro la Salernitana almeno contro la Salernitana torniamo alla vittoria 1 fisso Juventus e non mi aspetto neanche una Juventus magari scuola qua c'è una notifica non mi aspetto neanche una Juventus ecco di cortomuso con la Salernitana voglio tornare a una vittoria abbastanza schiacciante non dico 5 a 0 4 a 0 ma almeno 2 a 3 a 0 me lo aspetto cioè speriamo speriamo veramente e spero di non sbagliarmi alle ore 20.45 invece abbiamo un grandissimo big match una partita da seguire assolutamente ovvero Atalanta-Roma perché qua ci si gioca il quinto posto Champions ultimo posto Champions Atalanta che ha pari punti con la Roma ma c'ha una partita in meno da recuperare contro la Fiorentina tutto per la Roma passa da qui passa da qui se la Roma vince può ancora sperare il quinto posto se la Roma pareggia o addirittura perde al Gavis contro l'Atalanta la Roma rischia seriamente di essere ecco stavo dicendo scusate perché mi stava entrando la ragazza in camera la Roma qua ci si gioca si gioca al quinto posto quindi se la Roma dovesse vincere ma addirittura perde contro l'Atalanta addio addio Champions nonostante le Rosse abbia fatto un ottimo lavoro qua non mi voglio sbilanciare troppo ragazzi io voglio andare su un gol su un gol per me possono fare gol entrambe poi chi possa vincere ovviamente essendo in casa vedo più favorito l'Atalanta vedo l'Atalanta più favorita per un 1x però ecco mi giocherei più il gol lunedì alle ore 18.30 invece abbiamo un bel Lecce-Udinese scontro salvezza più per l'Udinese che per il Lecce perché l'Udinese è in zona di successione e il Lecce ormai gli mancano quei 1-2 punti per avere la matematica e certezza della salvezza però a Lecce a Via del Mare sicuramente ragazzi il Lecce non perderà quindi sicuramente mi metterei la doppia chance con l'1x per il Lecce e poi alle 20.45 ragazzi abbiamo Fiorentina-Monza sicuramente è una partita dove ormai sia Fiorentina che Monza non abbiamo più nulla che dire a questo campionato il Monza ormai per la Conference è troppo tardi troppo lontana con i punti mancano solamente tre partite quindi non ci può arrivare la Fiorentina idem ormai pensa solamente alla Conference League a livello europeo tra l'altro stasera giocherà perché io sto registrando questo video di mercoledì ma probabilmente però ve lo carico domani che è giovedì penserà solo a quella lì alla Conference quindi ormai la Fiorentina anche il campionato l'ha abbandonato quindi appunto perché sia Fiorentina che Monza l'hanno abbandonato e sono due squadre che non hanno quasi più nulla da dire per me 1-1 e mezzo o anche 2 e mezzo ci può stare quei 2-3 gol possono uscire in sta partita ecco il mio consiglio è questo e niente ragazzi questi corsi dei miei pronostici per quanto riguarda la 36esima giurata di Serie A fate sapere qui sotto i suoi commenti i vostri pronostici personali e fate se siete con me oppure no qui sotto nei commenti lasciate un bel like questa sera continua fino a fine del campionato ragazzi perché a me manca sempre meno e se ve lo vuoi suo supporto e comunque i numeri non sono male le pronostici io ovviamente vi ripropongo anche il prossimo anno con il nuovo campionato quindi mi raccomando spacchiamo il video di pollicioni che comunque sono gratuiti come anche le iscrizioni sono gratuite ragazzi ultimamente ripeto ho perso quelle 8 iscrizioni che non so perché le ho perse però vabbè forse appunto per quei commenti là sull'Inter ma ripeto non è nulla era per ridere e scherzare cioè però vabbè ripeto non è un problema le iscrizioni si fanno però ecco se vi fa piacere che anche quello è gratuito non costa nulla però ha mirato un sostegno importante mi ha aiutato a crescere quindi una bella iscrizione anche è ben voluta e vi ringrazio se lo fate condividete anche il video con i vostri e mi fanno anche con loro e attivatevi le notifiche così non perdete i più rischi che usciranno ci vediamo stasera ragazzi col post sparita dalla Fiorentina così vediamo un po' se la Viola andrà in finale di come fornire il ligo oppure no quindi campagna inattiva e inizionate anche nel link del bar di channell altri miei profili social qui da me che è tutto bello